Ma chi più di noi può conoscerlo Antonio Conte? Chi più di noi può conoscerlo Antonio Conte? Cari amici interisti, lo so, adesso sicuramente non starete passando un bellissimo periodo perché vi gira il cazzo, vi gira il cazzo. Ma pensate a noi ragazzi, pensate noi che abbiamo dovuto vivere una situazione del genere a luglio. E il ritiro era appena iniziato, quindi ci ha lasciato in un mare di merda, oserei dire perché sapete benissimo che le stagioni si programmano con gli allenatori e non si lasciano le squadre a ritiro in corso poi fortunatamente da noi è venuto allegri e vabbè, il tutto è andato come è andato. Antonio Conte lascia l'Inter ragazzi, clamorosa, bomba clamorosa Antonio Conte la lascia l'Inter non ci sono le basi per continuare, assolutamente. L'Inter e Antonio quindi si separano qui, finiscono qui. Finisce qui l'avventura di Conte in nero azzurro, targata da uno scudetto e una finale di Europa League persa l'anno scorso con di Siviglia. Io l'ho sempre detto, sempre sempre detto, ragazzi voi avete in panchina una bomba ad orologeria e prima o poi quella bomba esploderà. Ma è logico che sia così ragazzi, Ucanushim Troppo Bone racconte com'è fatto, Ucanushim Troppo Bone, lo conosciamo troppo bene, noi l'abbiamo avuto come calciatore, come allenatore sappiamo come ragiona, se non lo accontenti si mette a piangere, vuole i giocattoli come i bambini di 5 anni lo sappiamo già. Quindi si è trovato l'accordo sulla buona uscita che dovrà essere di 7,5 milioni di euro se non vado errato, cioè praticamente pure a buona uscita, lui aveva un altro anno di contratto gli danno pure la buona uscita, vabbè ragazzi è così, è così cari amici interisti, voi purtroppo vi eravate un po' illusi ma non sapevate che avevate in panchina il sottoscritto lo sapeva perché c'era già passato 6-7 anni fa detto questo ragazzi, quindi si separano le strade di Conte e l'Inter, adesso vedremo chi andrà a sostituirlo, in Pol sicuramente c'è Simone Inzaghi c'è anche più defilato Mialovic-Sarri e il sogno Allegri ma ragazzi, come vi ho sempre detto, Allegri è vicinissimo alla Juventus è vicinissimo a un ritorno, un bis alla Juventus quindi la vedo molto, 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 molto proibitiva come cosa detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti giornata guturiosa oggi ragazzi, e chi l'avrebbe mai detto? da segnare rosso, da cerchiare rosso sul calendario e sempre fino alla fine, Forza Juventus